La seguente testimonianza è tratta dal libro di Fra Gianluigi Pasquale intitolato 365 giorni con padre Pio alle pagine 55 e 56. L'autore del libro ci riporta un'epistola scritta da padre Pio il 13 maggio del 1915 a Raffalina Cerase, epistola raccolta nell'epistolario numero 2 alla pagina 417 ma ecco cosa dice padre Pio. Confortatevi perché il vostro soffrire è secondo Dio. Se la natura si risente e reclama il suo diritto è condizione questa dell'uomo viatore il quale se secretamente e tacitamente risente il dolore delle sofferenze e naturalmente vorrebbe sfuggirle è perché l'uomo fu creato per la felicità e le croci furono una conseguenza del peccato. Finché sia in questo mondo avremo sempre a sentire la naturale avversione alle sofferenze. L'è questa una catena che ci accompagnerà dovunque. Siate pur certa che se con la punta dello spirito desideriamo la croce e dall'uomo noi l'abbracciamo e ci sottoponiamo per amor di Dio ad essa, non per questo cesseremo di sentire nella parte inferiore la reclamazione della natura nel non volere soffrire. Difatti chi più amò la croce del divino maestro ebbene anche l'umanità sua santissima nella sua agonia volontaria pregò che il calice da lui si allontanasse se ciò fosse stato possibile. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima! Grazie per aver guardato il video!